La scelta della tomba di Antonello D'Armissina, scritta da Biagio Cardia. Abbiamo personalità di spessore, che vi presento. Abbiamo il dottor Transa Riccobono, la dottoressa Rosano Zara, il nostro preside Claudio Senza Stazione, l'autore del libro Biagio Cardia, il dottor Antonino Sarica della Gazzetta del Sud, la dottoressa Romeo dell'Osservatorio di Messina, dedicato ad Antonello D'Armissina, e la nostra Celestina Martino, collaboratrice del preside. Io sono Midiri e alla mia destra la dottoressa Midiri, Claudio Senza Stazione, che ha sostenuto quest'opera di Biagio Cardia, perché ha letto l'intento di voler dare spessore a una delle nostre più grandi celebrità. Questo è il nostro presidente Cardia, perché mi sono reso conto che la sua opera era veramente ispirata a sentimenti di questo stesso genere. In particolare, quando si parla di Antonello non ci tracce, i reperti che potrebbero parlare di Antonello. Stico, non è detto che proveremo niente, sicuramente non ci saranno neanche rossi. E il posto possa essere quello giusto. Il pari che l'ha dimostrato con tanta maestria, il nostro è la giocattia. Cioè io credo che dopo quello che lui ha scritto in quel libro, sia assolutamente inoppugnabile la collocazione in quei luoghi della sepoltura di Antonello. la chiesti, questo vado a letto e sicuramente ha reso il massimo dell'onore al presidente Cardia, perché ha condiuto un'opera che veramente, credo che avrà un seguito e avrà sicuramente un riscontro oggettivo, che mi auguro che sia buoniero di risultati altrettanto oggettivi. Grazie. Grazie per questo invito gravitissimo, soprattutto perché la strada, come diceva il preside, che intendete seguire, non è una strada fatta solo di una giusta e santa ricostruzione storica e storico-artistica. Detto questo intendevo solamente portare il saluto dell'osservatorio Antonello Messina, che è un centro recentissimo, un luogo di recentissima costituzione, che è un'emanazione dell'associazione Antonello Messina di Roma, che è stata fondata nel 1979, che ha una trentennale esperienza in ambito della promozione della cultura sicilana segnatamente messinese e anche della promozione della figura del grande autore messina. Perché nel senso di questo desidero, che gli recuperò la memoria di questo sommo artista, anche a Messina c'è stata istituita un'apertura totale a tutta l'iniziativa che voi intendete portare sul territorio in questo senso. Grazie. La questione è quella di un lavoro di sintesi su quanto è stato scritto ed è stato detto su un dipattito che è ancora vivo in città, circa la posizione della tomba, seconda metà del 400 in particolare, quando viene sepolto Antonello. E quindi la disputa tra i vari, questo ho accesa, ma è questo un bene perché dal confronto certamente si potrà definire meglio il luogo di questo... di Antonio, però lui specifica Messarensis di Messina, lui già in vita ci tiene anche quando lavora fuori dalla città dello stretto, vuole ricordare sempre nella firma dei suoi lavori, la partenenza alla città di Messina. Quindi se mi venga un lavoro semplice ma efficace come quello dell'amico Gabbia, che ha racconto con serenità, direi con obiettività rara, quanto è stato scritto in vario modo, leggendo quella che è la vicenda della tomba, che è sempre più maggiore risalto a questo illustrissimo nostro concittadino. Grazie. Grazie. I tanti critici vittori ritengono, hanno ritenuto nel tempo, che il viso triangolare, l'effizio triangolare di questa annunciazione, rinunto per il viso triangolare, nel senso che torre i visi delle donne o delle madonne, Antonello si rifaceva a quel viso, diceva qualcuno che si rimbocca le madri, scuoteremo le autorità, perché Antonello da Messina, non è, Tommaso Candizzaro, aveva tutto già lasciato all'ombra, 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 che parte si dà e arriva fino a male. E Antonello da Messina non metteva, poverino, con tutti i pellequaci, tutti i miei vicini che sono. Qui nel novecento re, grazie ad uno studioso messinese veramente benemerito, il Chiairano alla Forte Cagliere, ha scoperto il testamento di Antonello da Messina, dal quale risulta chiaramente che Antonello da Messina è morto a Messina, che un notario messinese era tolto le sue volte memorità e ha redatto il testamento. Qualche giorno dopo, Antonello da Messina morì. In questo testamento, Antonello fra l'altro dice «Idem volo ente mando, uomo del cadaver neum, seppegliatelo in convento sante Maria e dell'Ieso, un abito di che sono convento della zona per essere abbandonata». Gli scavi devono essere approfonditi, bisogna scavare, pur nella remota speranza, di trovare qualche segno, qualche segno, che indica con buona proprietà che le spoglie del Tonello, perché adesso è veramente bisogno di farlo, sia insomma anche in quel testamento. Concludo, complementando un po' l'autore, che ho fatto con più un lavoro di sintesi, io lo ho scritto per l'editorio, perché servirà sicuramente a stimolare un po' più l'interesse della gente per questa questione che io mi dedico di fondamentale di sostanza. Grazie. La ricerca della tomba di Antonello da Messia. Cioè dire che il nostro bravo, viaggio per via, che con umiltà, questo sottolinea dirlo, con umiltà si è accostato a questa grande questione. Buonasera, a quanto sento, si è detto moltissimo stasera, di questa... Ho proposto al professore di stazione, successivamente a questa presentazione, intanto di organizzare, di preparare un convegno sulla tomba e su Antonello in generale. E poi ho proposto che già abbiamo una bozza iniziale, di uno statuto, di fare un convidato cinque di aprile. Adesso, passo un anno, io nel 5 aprile, 5 aprile, sono andato alla ricerca, e ci ho impiegato un'ora, ci ho impiegato un'ora per trovare questa presunta tomba di Antonello. E' stato saputo lì Antonello da Messina, con il stato di qualità. Ha scritto nel 1550, poi concorre nel 1568, che Antonello da Messina è morto a Benessina. Intanto io vorrei, scrivo di Antonello da Messina, è morto a Messina, perché già nel 1476, lui, come ho detto io, è ritornato a Messina, e lì, in tristamento, è stato anche copiato, e noi ce l'abbiamo nel sangue, la nostra città, quindi facciamo qualcosa per la nostra città. e in caso a mente, della volta che... Io, e che rappresento il gruppo, gli impegnanti che hanno lavorato la scuola medica, ma sono scuole, non si interessa del territorio, almeno quello circostante, dalla scuola elementare, scuola media, e anche a superiore, che ora si chiamano con altri temi, ma è sempre la stessa scuola che abbiamo sempre conosciuto, quindi viaggio. Non mi ha meravigliato per niente la tua affermazione. Che cosa ci possiamo fare? Che la scuola ha pianto, no, questo solo ho detto, voglio fare una data, bisognerebbe spiegare anche, non volevo dire da scolastro, ma gli operatori diretti, cioè gli insegnanti della scuola. Ho finito. Ho avuto volentieri di curare il testo alla ricerca della propria di Antonio Messina, scritto per la vita via, proprio per voler dare il mio contributo personale all'impegno civile assunto dalla comunità Messina. E ci voglio amare la nostra città, portare anche il nome della nostra città, e quindi far conoscere il mondo interno che è così sia e tutti i nostri... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.